Perla Vatiero Lapidaria, non seguirò Temptation Island, poi spiega perché. Temptation Island, la fidanzata di Mirko Brunetti ha rivelato di non voler ripartecipare. Perla Vatiero ha preso il volo proprio grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un'esperienza che si le ha dato grande popolarità, ma ha anche messo fine alla sua storia d'amore con Mirko. Tuttavia i due alla fine si sono ricongiunti al grande fratello. Detto questo si segnala che la ragazza ha rilasciato un'interessante intervista al magazine nuovo. E in questa occasione la giornalista ha colto la palla al balzo per chiederle se mai riparteciperebbe al programma, visto che la nuova edizione inizierà ormai tra meno di una settimana. E quest'ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, ha subito tenuto a dire di non avere la minima intenzione. E un'esperienza che ho già fatto in un rifare punto 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 non mi pento di nulla, ma basta. Perla Vatiero ha annunciato che non seguirà i reality delle tentazioni, ecco il motivo. La vincitrice dell'ultima edizione del grande fratello non solo non ha la minima intenzione di partecipare a Temptation Island ancora una volta, ma al magazine nuovo si è anche lasciata sfuggire che non lo seguirà neppure in televisione. Non penso che riuscirò a guardare i reality show. Il motivo? La fidanzata di Mirko Brunetti, la quale ha recentemente rivelato che al momento si sente ancora un po' confusa, ha poi spiegato di non voler seguire il programma dell'ammiraglia Mediaset perché rivivrebbe le sensazioni dolorose di allora. Vivrei di nuovo le sensazioni dolorose di allora, quindi direi proprio di no. E alla domanda se vorrebbe continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo la compagna di Mirko ha risposto senza pensarci due volte affermativamente. Mi piacerebbe proseguire questa strada.Vorrei studiare per diventare attrice o per lavorare in televisione. La fidanzata di Mirko Brunetti non parteciperebbe all'Isola dei Famosi. Successivamente la giornalista del magazine nuovo ha domandato a Perla Vetiro se dopo il grande fratello parteciperebbe ad un altro reality show, magari all'Isola dei Famosi, la cui ultima edizione è terminata lo scorso 5 giugno. E l'ex partecipante a Temptation Island ha subito risposto negativamente, asserendo però che magari il suo fidanzato potrebbe anche affrontare questa avventura, qualora arrivasse la proposta. Non penso...forse Mirko si...comunque mai dire mai. Parteciperebbe però molto volentieri a Pechino Express in coppia ovviamente con il compagno. Accetterei perché si affrontano le prove in coppia e potrebbe essere una bella esperienza.